si lo so non faccio vedere esatto ehi logan dove sei? oh ciao logan sono qui bene ragazzi questo è il nostro degno timide il grande inimitabile logan ciao ciao logan dopo tutto eh signori guardate ah si sono io logan con il suo charme ma aspetta logan io credo di visto da qualche parte da dove scuse? da dove? cos'è questa storia? perchè? non ci voglio credere gli dannati d'Inkleberg! ehi prima che inizia il video ti invito cortesemente a scriverti e attivare la campanella per ricevere i tuoi inumità sui miei video poi se vuoi sapere l'ora settimanale i miei video ti vedo a passare nella descrizione del mio canale beh detto questo credo di aver intrattenuto per abbastanza tempo perciò vi lascio al video e buona visione ciao 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 allora signori facciamo una camera però che si ad un aspetto alla fotocamera facciamo una stella la stella la camera ok e una camera aspetta una camera da letto ma una camera una camera cioè una stanza una camera fotografica è che era una macchina fotografica perchè camera in cui lei si è capito bene signori armiamoci di clay jensen non ho battuto migliore non poteva venirmi bravo logan fa cagare però ce l'abbiamo fatta però dobbiamo mettere un ok che se no non ci danno i punti esatto mannaggia nice one che è sta roba ma guarda l'obiettivo con il fuoco come il tizio del fuoco ci ha provato mi piace l'idea dei quadri comunque la gente fa le videocamere non le fotocamere e fa perchè i villageri fotocamere non videocamere questo che è col carrello addirittura col crinskin e quasi non usate ci mandiamo il cinematografico logan siamo negli studi della star mistight non so cosa cazzo sia come cazzo l'abbia fatta però ma io gli darei comunque un ok esatto questo che cacchio ma che cazzo ma sei proprio uno schifoso fatelo dire io direi di mettere un bel report tattico proprio l'impegno vabbè ma loro li vogliono proprio gli poop cioè proprio li buttano lì sparati cioè non ho tempo da perdere questo cosa c'entra? stanno fotografando un albero logan e senza anche l'obiettivo senza niente io gli do poop non capisco cosa sia ma quello è è johnny bravo quello dietro è johnny bravo come? eccolo guarda guarda ma che figata eh eh non fate cazzo all'omino però la macchina guarda figa cioè col flash poi ottavi ottavi ma come? bene signori siamo tornati allora vediamo un po' la terra i compleanno i robot i denti tutti noi ragazzi una volta ci saremo chiesti come fosse logan i denti ma si facciamo il campfire ragazzi facciamo un bel canteggio ragazzi se volete proprio roll play sul canteggio perché ci sono vacanze quindi facciamo roll play su una vacanza logan che te ne parlo si dai ci sta dai ci sta dai ragazzi un episodio roll play a random come alexis va in vacanza chi è? ho un'idea faccio tipo che il fiume scorre da una montagna siamo le vecchie volpe logan eh eh già ehi albero il fatto è che stiamo facendo tutte le decorazioni ma di campfire ancora nulla tranquillo logan abbiamo quattro minuti di tempo prima l'estetica e poi dopo il tuo amante ma come? ma ma logan cosa? no ma come? ma no bene allora signori allora onorevole logan lei io sono qui come sta andando? ma da mo ti fai giudere io sono qui dai dai mi devo muovere io fare questo piccolo non so qualcosa no guarda che ho fatto qui ma che cazzo che asserò cosa è sta cosa? è un campfire gigante con dell'acqua sotto vabbè gli ho detto ok per pure pietà guarda e guarda e vai subito subito così vai dai questo è un signor campfire signori guardateli good gli epic ragazzi c'è vai vai ovviamente c'è la pioggia col fuoco è un senso vero? e poi la legna che si mette a volare d'incoerenza dai gli metto un ok proprio perché è bello il fuoco ma come mio dio c'è qua proprio ma cos'è? ma ci abita un gigante dentro ci abita una popolazione di indiani guarda quanti letti dai questo pure dai un ok un po' di estetica dintorno no noi siamo stati più bravi è vero Logan? ah ti dai noi siamo stati migliori per quanto riguarda le decorazioni esatto e poi c'è lui e poi c'è lui uh secondi Logan secondi ma ragazzi siamo stati veramente molto bravi tanto che c'è anche questo è fatto rogan dobbiamo anticipare il raid dell'area 51 ma chi sarà mai a quest'ora? chi è? eh? tu chi sei? salve sono bluescreen soldato delle FBI of law no 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 l'abbiamo fatta Logan più o meno ok perfetto ma vedi questa cagata di un bebe che sta vengendo per un carro armato trash questo è un camion non è poi dietro ci sta un blow una casa con un cannone a caso cioè ragazzi ma cosa è? sembra squitty poi che caccia sta cagata questo ci sta mi piace io gli do un ok che basta ah sì vado quasi a tutti ok ebbè almeno che ce lo schifo ma che cazzo? ma non è possibile ma come? ma questa verna vinto noi il raid il raid vergogna ma che schifo noi eravamo da leggendari è da leggendari il nostro ma poi nemmeno secondo ma che scherzo ma guarda questi hanno vinto perché c'era il pony hanno vinto perché c'era il pony madonna salta ma non è possibile beh niente ragazzi tutto questo io vi saluto e niente vi siete passati nel canale di Logan anche se cazzo ho fatto dieci volte più visual di me e niente ah vabbè ciao ragazzi oh ciao